Stiamo manifestando perché sono mesi che non riceviamo risposte per quanto riguarda la tredicesima, ultime notizie che abbiamo avuto, solo una lettera di licenziamento per tutti i lavoratori al 28 febbraio, il 15 oggi dobbiamo riscuotere dell'aspettante stipendiale, CNS ci ha detto che lei non può più pagarci e pertanto ha attuato la legge 207 per farci pagare direttamente da ANM, ANM la risposta è stata che il comune non paga, non gli versa i soldi e non ha una lira per pagarci. Sono 208 i lavoratori che stanno manifestando già da tre mesi per quanto riguarda, hanno fatto un sacrificio già con la 223, hanno chiesto una cassa in deloca, un taglio del 34%, ad oggi richiedono un'altra volta un altro sacrificio di non percepire lo stipendio, oggi sappiamo che lo stipendio non lo prendiamo, quindi cosa chiediamo? Lo stipendio, chiediamo garanzia che il dottor Palma, l'assessorato al bilancio mette dei soldi direttamente ad ANM, ANM con la sicurezza e con la trasparenza paga direttamente ai lavoratori l'aspettanza stipendale e le tre licenze.